L'argomento è un altro, è quello relativo a una questione che è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento e che ha una rilevanza per la difesa dell'articolo 21 della Costituzione, per la libertà di parola che è prodromica a tutta l'attività che svolgiamo in questa sede in rappresentanza del popolo italiano. Mi riferisco alla censura gravissima che ha operato la piattaforma YouTube nei confronti della rete BioBlu che è un canale che rappresenta una testata giornalistica regolarmente iscritta che rappresenta delle posizioni che a prescindere dal fatto che siano apprezzate o disprezzate devono essere liberamente espresse e questo è un problema che si sta accumulando in questo momento nella democrazia italiana e di cui non si discute abbastanza e per cui è opportuno che si discuta invece in Parlamento perché sono numerosissimi gli episodi di censure da parte delle piattaforme FANG cioè Facebook, Apple, Netflix e Google. Collega, mi scusi, sull'ordine dei lavori ci deve essere una richiesta se lei sta facendo una richiesta, se no questo è più un intervento di fine seduta. È una richiesta di atti che si convochi il governo per discutere di questo argomento per trovare delle misure a livello internazionale per una convenzione internazionale nei confronti delle piattaforme che hanno assunto un potere di mercato predominante in grado di condizionare pesantemente il dibattito e di impedire la libera espressione di testate giornalistiche proprio in virtù di quel potere di mercato. Questo è un tema che deve essere iniziato a discutere in questa sede.